grazie adesso darò la parola a Alexei Komov che è ambasciatore russo all'ONU ed è nostro ospite insieme al parlamentare di Russia Unita, Viktor Zubarev buongiorno Lega Nord, buongiorno Torino siamo i vostri fratelli russi siamo i vostri fratelli che condividono i vostri valori di un'Europa cristiana e siamo molto orgogliosi di essere qui insieme a voi quest'oggi 80% del popolazione russo sono cristiani ortodoxi and we want to be represented in our country and just last week we have launched a new initiative to introduce the important role of Christianity to the preamble to the constitution of the Russian Federation more than 90% of the population of Russia are against same-sex marriage and homosexual sin il 90% della popolazione russa è contro il peccato dell'omosessualità e quest'anno il Parlamento ha votato e il Presidente Putin ha firmato una legge contro la propaganda omosessuale rivolta verso i bambini minori sono rappresentante per il Congresso Mondiale delle Famiglie che è la più grande piattaforma mondiale che rappresenta i gruppi conservatori pro famiglia provenienti da 80 paesi nel mondo questo è un regalo per la Lega Nord è un gadget di questo congresso mondiale 2014 questa è la matrioshka tipica russa come vedete rappresenta la creazione prima dell'uovo poi della donna e poi i cinque bambini è piccolissimo e voglio invitarvi a tutti tutti i prossimi anni a la Kremlin dove abbiamo il Congresso Mondiale delle Famiglie 6 per 5.000 persone di 5 continenti che condividono i nostri valori per la famiglia che ogni bambino ha il right di avere un padre e una madre vi invito tutti il prossimo anno al Kremlin per il prossimo Congresso Mondiale delle Famiglie dove si riuniranno 5.000 o 6.000 persone provenienti da 5 continenti dove sosteneremo i valori per la famiglia perché ogni bambino ha il diritto di avere un padre e una madre è stato un evento historico con 5.000 conservatori la nuova cent'allianza la nuova allianza di tutti i pro-famili e di buoni cristiani da tutto il mondo che si riuniranno nel Kremlin e speriamo che il Presidente Putin e il Patriarche Kirill della Chircola Orthodocca si riuniranno qui vi invito di nuovo tutti quindi il 10-11 settembre del 2014 al Kremlin sarà un evento storico con 5.000 rappresentanti di tutti i movimenti pro-famiglia e cristiani di tutto il mondo si terrà al Kremlin parteciperà anche il Presidente Putin e il Patriarca della Chiesa Ortodossa Russia quindi siete tutti invitati a partecipare Putin Putin